Il Comitato Italiano Paralimpico Abruzzo di concerto con il Comune dell'Aquila ha organizzato la Festa dello Sport Paralimpico 2023 nella sede dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili in via Alcide De Gasperi all'Aquila. La cerimonia di premiazione si è svolta in presenza dei rappresentanti della Regione Abruzzo, del Comune del Capoluogo, degli enti locali e del Presidente regionale del Comitato Italiano Paralimpico Mauro Sciulli. Questa sera l'Aquila, chiaramente il nostro percorso in itinere, l'anno scorso Pescara, di questa meravigliosa festa che va a identificare tutti coloro gli attivi paralimpici che si sono distinti nelle attività 2023 ed è anche l'occasione per andare a premiare quei dirigenti, quelle società sportive che fanno di tutto per portare ai massimi livelli l'attività paralimpica sul territorio abruzzese, nazionale e anche internazionale. Il Comitato Paralimpico Italiano regola e gestisce le attività sportive agonistiche e amatoriali per persone disabili su tutto il territorio nazionale, secondo criteri volti ad assicurare il diritto di partecipazione all'attività sportiva in condizioni di uguaglianza e pari opportunità. Diciamo che dal 2017, ma già da anni, dal lontano 1960, il Comitato Paralimpico rappresenta la rivoluzione culturale del nostro paese e non solo, anche sociale ed economica. È ben strutturato il nostro organismo, il nostro ente pubblico oggi che a cascata prevede le federazioni, gli enti di promozione e in ultimo le società sportive che sono regolarmente affiliate a queste federazioni e possono svolgere attività sul territorio.